In questa nuova visione del corpo umano e in questo riconoscimento di questo momento conflittuale che è la DHS, vi sarà subito chiaro un concetto che è fondamentale, di fronte a una situazione conflittuale ciascuno di noi è unico e irripetibile, cosa vuole dire? Che lo stesso evento per una persona può essere un shock più o meno drammatico, più o meno intenso, per un'altra persona lo stesso evento può essere vissuto in maniera diversa, vi sto introducendo quel concetto basilare che invece è esattamente il contrario di quello che viene nella medicina moderna, cioè che non esiste più una visione protocollabile dell'individuo, ma esiste l'individuo unico e irripetibile che vive ciascuno al suo modo quella situazione conflittuale e quindi non possiamo più metterci tutti sullo stesso livello, ciascuno ha un suo mondo, un suo vissuto, un suo percepito, quindi il medico futuro, il medico di un domani che dovrà gestire la situazione conflittuale di una persona non può più non tenere conto del suo modo di vedere il mondo, in questo percepito si inserisce quella scoperta che mi avviso straordinaria, che sarà oggetto invece di un altro studio che è lo studio dell'enneagramma, cioè capire che cosa sono le nove tipologie caratteriali che insieme a Emanuele Bacciarelli che ha fatto questo studio più approfondito è stato riscontrato come ciascuno di noi in base al suo vestito, al suo modo di vedere il mondo è chiaro che avrà una sua modalità di percepire il conflitto e vedremo che a fronte di queste nuove tipologie caratteriali c'è proprio andare a toccare più spesso un organo piuttosto che un altro, però adesso avremo una nuova chiave di lettura, la chiave di lettura non serve solo a capire perché vado a picchiare su quell'organo, ma ci servirà anche per aiutare a livello terapeutico e capire che quella persona vede il mondo sotto quell'angolo di visione e allora so come lavorare per aiutarlo a spostarsi da una situazione conflittuale, perché come vi ho detto fino adesso l'unica cosa che ci deve preoccupare non è la DHS, non è tanto il conflitto in sé, l'unica cosa che ci deve preoccupare è la recidiva conflittuale, perché signori se io banalmente picchio la testa contro il muro mi diventa rossa la testa, se io ci vado a ripicchiare di nuovo mi fa non più male, mi farà molto più male se picchio nello stesso punto e allora mi si gonfierà, avrò un ematoma, se vado a picchiare ancora non andrò a formare il callo osseo, ma se continuo a picchiare sempre nello stesso punto, poi il programma non diventa solo un arrossamento che aumenta, diventa, si centuplica il sintomo sino al punto che rischia di andare in coma e poi il corpo mi dice senti o sei scemo e ti sposti o ti sposti il muro o ti sposti tu e allora è lì che dobbiamo intervenire a aiutare la persona consapevole a spostarsi da una situazione conflittuale che diventa il motivo della recidiva, il motivo della situazione per cui il corpo mantiene sempre questi programmi biologici sensati, ma c'è un limite conflittuale oltre il quale il programma biologico sensato che si instaura si chiama morte e questa è di nuovo l'applicazione estremizzata di questo senso biologico del corpo. Abbiamo passato il primo livello di evoluzione, l'individuo ha imparato dopo miliardi di anni a mangiare, ora si trova nella condizione di uscire dall'acqua e trovarsi in un nuovo ambiente dove si accorge che l'elemento acqua non lo protegge più e si accorge di essere in una situazione dove è paradossalmente nudo, nel senso che tutti gli eventi esterni, intempere, caldo, freddo, aggressioni dall'esterno vanno a minare la sua integrità e quindi il suo diritto di vivere viene compromesso e loro si stavano nella necessità di fare altri organi, quali sono questi altri organi? Sono gli organi di protezione, sono gli organi che il mio corpo si è strutturato per mantenermi in vita e allora quali organi devo andare a proteggere? Andrò a proteggere il cuore e quindi che organo vada a insistere sopra? il pericardio, devo proteggere i polmoni? Assolutamente, quindi creerò la pleura, non solo la pleura, da sola non basta, addirittura vado poi a creare la cassa toracica, devo proteggere le viscere, l'intestino e quindi andrò a creare il peritoneo, dovrò creare una struttura globale di protezione del corpo che si chiama il derma, questi sono gli organi di protezione che hanno solo la funzione di stare lì a proteggere gli organi vitali e se voi foste gli architetti, gli ingegneri di questi processi di protezione non è difficile comprendere che il conflitto ovviamente dal quale io devo assolvere, il conflitto contro il quale io devo andare è il conflitto di attacco, questo è il secondo conflitto biologico che tuttora noi possiamo vivere e subire e che ovviamente laddove io vengo attaccato in quella parte del corpo, questi organi che sono semplicemente lì messi a protezione, cosa fareste fare voi a questi organi nel punto dove io sono attaccato? Il senso biologico, il ottenere il massimo col minimo sforzo, la famosa legge dell'esagono mi porta a dire che io dovrò crescere di nuovo in quel punto laddove io subisco l'attacco, quindi la curva è sempre la stessa, la DHS è sempre imprescindibile, ma questa volta cambia il conflitto, il conflitto è quello di attacco biologico che determina in questi tessuti che cosa? Un aumento di funzione, anche qui che si può tradurre in quella che è una proliferazione di cellule che è necessaria a consentire un ispessimento del tessuto, quindi cresco in fase attiva, vedete che la crescita è analoga a quella che abbiamo visto nelle tessuti dell'endoderma, ma qui il senso biologico è diverso, non devo crescere per aumentare una funzione del tubo digerente, ma devo crescere per ispessire il tessuto a protezione di quello che è l'attacco subito in quell'organo, quindi di nuovo avrò una crescita in fase attiva, in soluzione cosa avrò? Finito il conflitto, avrò la necessità di ridurre quell'ispessimento o addirittura di mantenerlo, lo mantengo perché in fondo è un organo, è un ispessimento di protezione. E fin qui cosa ho detto di male, di cattivo? nulla, ho solo semplicemente spiegato il processo sensato biologico, peccato che questa crescita a livello di conflitto attivo, nel caso di derma e di questi organi viene chiamato mesotelioma o melanoma, sono quei processi di crescita che insistono sul derma, su questi organi di protezione che crescono solo, esclusivamente in fase attiva e mai toccare un organo che sta crescendo in fase attiva, perché se io vado a insistere sul processo nella fase conflittuale, questo ovviamente subisce un secondo tipo di attacco e cresce ancora di più e quindi ora capiamo perché il processo del melanoma o del mesotelioma nella fase attiva non bisogna mai insistere su quel punto, perché se no questo continua a proliferare. E qui entrare nello specifico è più un discorso clinico, un discorso tecnico, ma a me serve che voi capiate che osserviate che dove avvengono melanomi e mesoteliomi, il melanoma avviene soprattutto nelle parti dove le persone vengono attaccate, puoi avere di solito fenomeni di melanomi sulle spalle, sulle natiche, sulle parti dove la persona subisce questo tipo di attacco. Ai metri ci viene detto, ci dicono, leggiamo sui giornali che il melanoma è causato da chi? Dal sole. Infatti qui dentro nessuno di voi va al mare, vero? Andate al mare o no? Ma siete incoscienti però, cioè li vestite tutti coperti. Questo per dirvi come continuiamo ipnotizzati a fare delle cose quando ci viene detto che bisogna stare attenti a tutte queste cose. Ora il sole signori non c'entra nulla con il melanoma, il sole al suo effetto, poi vedremo quando come con causa di certi fenomeni può insistere il sole, ma mi è capitato diverse persone che hanno i melanomi inelenati, dove l'hanno preso il sole lì? Niente, va bene, continuiamo in questa sorta di ipnosi. Quando invece a fronte di una situazione di attacco io ho la risposta del corpo. Un giorno una signora aveva un melanoma qui sul fianco, qui proprio sul fianco destro, era terrorizzato ovviamente dal paura del melanoma, di tutti questi processi che poi vedremo applicati a quello che viene considerata la famosa metastasi, ma quando ho incontrato la persona lei aveva già subito l'intervento, aveva già tolto i linfonodi, ma io non mi sono spostato dalla interpretazione di dire, signora lei qui ha subito un attacco da qualcuno, punto. Ci è voluta mezz'ora prima che lei si ricordasse quella volta che in ufficio quel suo collega, che continuava a irritirla, continuava ad attaccarla e lei non voleva, ma quel giorno lei stava facendo le fotocopie e si è sentita proprio le due mani, ma lei ha percepito questo proprio come attacco, come aggressione, ha sentito soprattutto la mano destra che la teneva e lì ha sviluppato questo melanoma, che voi sapete i melanomi possono essere a melanottici o melanottici a seconda se coinvolgono le cellule dei melanociti, ma lei ha sviluppato questo melanoma come risposta all'attacco subito e questo che cosa si traduce in un ispessimento del tessuto che poi in fase di soluzione o riduce o si incapsula. E qui entriamo però, voi capite che entriamo in una dinamica dove questo accanimento verso una situazione che non è conosciuta, non è capita, diventa di per sé motivo di estrema paura, estrema angoscia, estrema panico di quello che è un tunnel dove si inizia, ma non sappiamo dove va a finire. Questa è l'occasione per iniziare e aprire e chiudo una parentesi riguardo a quel famoso processo delle metastasi, che cos'è la metastasi? È la teoria per cui le cellule tumorali di un tessuto andrebbero in giro per il corpo con quale criterio? Così a caso, cioè vie linfattiche, vie ematiche, queste cellule tumorali che peraltro non sono mai state trovate nel corso d'opera, non è mai stata trovata una cellula che cammina da destra, da sinistra, da sopra e sotto. Ora, al di là di quelle che sono le rilevanze strettamente di laboratorio, la prova che queste cosiddette metastasi non esistono, noi è l'onere del dottor Hammer di dimostrare che non esistono sulla base di che cosa? Che se è vero che un processo che sia tumorale, che comunque è patologico, viene a fronte di una DHS, io devo, io, Hammer, devo dimostrare che il secondo, terzo, quarto e quinto processo che si instaura è dovuto al secondo, terzo, quarto e quinto conflitto vissuto e posso dimostrare, questa è la prova, non è tanto andare lì a vedere se c'è o non c'è la cellula che gira per il corpo, ma se è vero che un processo biologico causato ad una DHS mi genera l'attivazione di un programma fisiologico, io devo poter dimostrare che non esiste la metastasi in quanto questo processo di passaggio tumorale attraverso le vie ematiche o linfatiche, ma esiste la dimostrazione possibile che tutto questo dipende da altri conflitti vissuti dalla persona, ed è lì la forza di Hammer dove finora tutti i processi riconosciuti come cosiddette metastasi, altro non sono che la successione conflittuale di questi eventi. E qui capiamo perché quando mi dicono che un tumore all'intestino, io ho letto diversi libri, uno che mi diceva che il 30% si forma la metastasi ai polmoni, in un altro libro è il 90%, ora al di là delle percentuali, la cellula tumorale dell'intestino per arrivare al polmone da dove passa? Non può non passare dal fegato, e perché non si ferma il fegato? Non gli piace, andiamo avanti. Noi siamo lì, vittime, dipendenti dal nostro corpo, stiamo lì a guardare, chissà dove va, se io ci mi tolgono la prostata e voi sapete che adesso non abbiamo affrontato il problema del tumore alla prostata perché ripeto manca il tempo, ma il tumore alla prostata che è un preciso, è un adenocarcinoma di tessuto endoderma che si forma solo quando c'è l'aumento di funzione dato da una dinamica di natura sessuale del maschio, ma se io tolgo la prostata cosa succede in molti uomini a cui li togli la prostata? Non abbiamo più per lo più l'erezione ed è lì che l'uomo vive quale conflitto, lo vedremo fra poco, quello del mesoderma recente dove dico ormai non valgo più, è lì che parte un complito di completa svalutazione e lì tocca le osso, ma non perché ci sia la cellula che da endoderma si trasforma in cellula del mesoderma, anche qui Ameri giustamente dice ma come è possibile che una cellula di un certo tessuto va in giro per il corpo e si trasforma in un altro tessuto, è come dire qui c'è una penna, esco dalla porta e diventa una bottiglia, non è possibile, allora io devo invece dimostrare che al di là delle rilevamenti di laboratorio, che non è da escludere che in un processo organico di circolazione del sangue io non posso anche trovare qualche cellula, per esempio le cellule squamose che quando si staccano in quelli che sono i carcinomi possono essere ancora rilevate alcune cellule nel tessuto linfatico o ematico, ma sono cellule di risulta di questo distacco, ma la vera prova che quello che finora viene chiamato metastasi non è il passaggio tumorale, ma esattamente la successione conflittuale, io ce l'ho proprio sapendo che se la persona vive una situazione di panico dalla morte, spesso causata nella diagnosi, quello a volte si forma la cosiddetta metastasi, ma non è metastasi, ma il secondo conflitto dove a carico dei polmoni e qui si apre un capitolo che è solo di verifica scientifica, basterebbe mettersi lì e prendere non più le statistiche, ma caso per caso, paziente per paziente e verificare la bontà di tutto quello che sono queste osservazioni. Quindi siamo nel mesoderma antico, tutti questi organi di protezione servono semplicemente a proteggere, la protezione avviene con questo aumento di funzione, in soluzione abbiamo la riduzione. Chi si è preso un premio Nobel dimostrando indirettamente tutto questo è il professor Candle di New York, il quale aveva fatto una prova con un mollusco che si chiama Flisia, che è una lumaca, forse il mollusco più studiato nei laboratori, il quale lui per fare un esame, un esperimento di laboratorio sulla memoria del mollusco, gli ha infilato un elettrodo nella membrana, cosa ha fatto la lumaca? Ha espessito la membrana, a fronte di quale conflitto? Di attacco, poi la membrana si è ridotta, se lui continuando a insistere con questo elettrodo, la lumaca poverina si è rotta e allora ha creato la membrana e l'ha mantenuta, se volete, è la riepilogazione di tutto il processo che è a carico di questi organi di protezione. Una prova, e qui è fascinante questo studio che è stato fatto da due veterinarie che hanno studiato le leggi biologiche e finalmente hanno potuto capire che le loro cavalle, loro erano specializzate in veterinaria di cavalli e hanno verificato che le cavalle spesso avevano il melanoma nella vagina, perché quali cavalle avevano questo melanoma? Le cavalle che venivano sottoposte a una inseminazione artificiale, allora queste apparecchiature, questa inseminazione che per la cavalla non è biologico, lei cosa vive? È un conflitto di attacco, cosa fa la cavalla? La cavalla si protegge, sviluppa questo melanoma e fin qui ha fatto quello che vi ho appena detto. La cosa straordinaria è che all'istologico del melanoma della cavalla è esattamente identico all'istologico del melanoma di un essere umano, la differenza qual è? Alle cavalle gli hanno fatto la chemia? No. Gli hanno fatto l'intervento chirurgico? No. Alle cavalle gli hanno fatto la radioterapia? No. Come stanno le cavalle? Bene. Ah, come ha fatto a sapere? Cioè, le cavalle stanno bene e questa signora che io avevo questo melanoma qui era il ritratto del terrore, perché lei era interrorizzata da questa situazione e tra l'altro quando io gli ho fatto vedere il mio melanoma che ho qui, che è identico al suo sulla foto, ho detto signora, però era questo per dirvi che sempre a fronte di questa situazione del derma o che sia il mesotelioma pleurico, che sia il mesotelioma peritoneale, cambiano i termini, ma il processo è sempre lo stesso. Se io ho un mesotelioma nel peritoneo, qual è il conflitto? Il conflitto di attacco al ventre, che può essere un conflitto proprio esterno, ma può essere anche un conflitto spesso dovuto a interventi chirurgici molto invasivi che la persona vive come attacco al ventre, oppure sono, ripeto, situazioni di attacchi esterni. Mi è capitata una signora che aveva sette mesoteliomi a cintura sulla pancia, proprio come una cintura, sono quelli cospidali, perché il mesotelioma può essere diffuso o a piramide e quando gli ho chiesto che cosa aveva subito lì e lei mi ha detto proprio, sono andato a fare 7 liposuzioni, perché mio marito ha detto che non volevo vedere più la mia pancia, ora non è che la liposuzione ti fa venire il mesotelioma, è lei che con la testa c'era, ma biologicamente ha sentito questi 7 siringoni e mi sentivo attaccata ogni volta e ha fatto questo ispessimento del tessuto. Il processo carico del peritoneo, vi dico solo una cosa in più, ma è solo tecnica, nella fase di soluzione, laddove c'è la necrosi caseosa di questo tessuto del peritoneo, la natura non solo ha previsto questo programma, ha aggiunto un altro programma biologico, quello della scite. La scite cos'è? E' la fase di riparazione con questo aumento di liquido a livello del peritoneo, perché? Qual è il senso biologico? Per evitare la formazione di aderenza di questa necrosi con l'intestino, crea una sorta di galleggiamento del processo, ma che non è nulla di cattivo, non è nulla di negativo, è un processo che va seguito, va monitorato, se vogliamo possiamo anche togliere un po' di liquido se è troppo, ma quando è che sarà troppo quel liquido? Se la persona vive insieme anche al conflitto del profugo e quindi c'è proprio un monitoraggio diverso del sistema, dove non devo più vivere con ansia e con terrore una situazione che ha un senso biologico, ma questo non vuole dire non fare nulla, questo non vuole dire abbandonare la persona in quello stato, ma aiutarla con un nuovo tipo di visione del processo. esistono programmi di attacco anche analoghi sempre al conflitto di attacco, ma con un modo, con un percepito diverso, mi riferisco per esempio ai fibromi, il fibromo uterino, che cos'è? E sono cellule di tipo mesodermale che vanno a proteggere il muscolo, voi sapete che l'utero ha questo rivestimento muscolare, quando è che vado a spessire con un fibroma l'utero? Quando la donna vive una relazione col partner, per cui quel partner non è forse l'uomo giusto come papà, è un uomo che in qualche modo si sente non tanto protetta, ma più attaccata che protetta. Biologicamente una donna come fa a sapere di avere l'uomo giusto vicino a sé? Una donna deve avere dall'uomo due P, deve sentirsi protetta e posseduta, questo è l'uomo giusto. A volte mi capita a donna, sai quell'uomo è bravo, è buono, mi protegge, i soldi sono importanti, ai fini della sopravvivenza della specie, ma l'altro mi fa sentire posseduta, signori nessuno dei due va bene, perché le due P devono coincidere con, perché di nuovo torniamo in dinamiche di tipo biologico, noi uomini cosa guardiamo nelle donne? Gli occhi, le dita, guardiamo due cose, intanto siete ripresi alle spalle, due cose vi guardiamo nelle donne, il seno e il sedere, perché? Nel seno cosa troviamo? La madre, la madre, però noi uomini quando guardiamo il seno non andiamo a pensare alla madre, all'attamedum, le guardiamo, ma cos'è? Non è l'inconscio, è la biologia, vi dico queste cose perché vedrete che oggi vi spiegherò altre cose che noi facciamo secondo biologia, vedrete quante scelte che noi facciamo sono dettate non dall'inconscio, dall'istinto o chissà da cosa, ma dalla biologia e noi nel guardare il seno non guardiamo il seno perché fammi vedere quanti litri di latte può avere, no, lo guardiamo punto e basta, ed è vero quello che diciamo che è la dinamica di continuità della specie che quella donna mi garantisce, e perché guardiamo il sedere? Per i figli, col sedere, col sedere procrei, ma col sedere non… è importante questo, cioè noi col sedere la donna non procrea col sedere, noi guardiamo… è così, il sedere deve essere quella cosa che mi garantisce che… vedete, quando noi andavamo a caccia miliardi di anni fa e tornavamo senza aver preso nulla in momenti di carestia, chi mi dava una garanzia di sopravvivenza? La donna che aveva una riserva di grasso, di energia, anche questo noi non lo facciamo pensando a quello, ma è un codice biologico antichissimo, quando l'ho detto a un mio amico che era un grande latin lover, diceva, ma come mi stai dicendo che io guardo questo e questo… sì, mi spiace, è così, è biologia, punto. Questo per dirvi che ritorniamo a dinamiche antichissime, che così come i programmi biologici sono sensati, così il nostro modo di comportarci segue, quindi stiamo seguendo un codice estetico in base alla biologia. E voi potreste però contestarmi dicendo che… ma allora ci sono anche donne che hanno questi codici estetici che a noi piacciono biologicamente, ma ci sono anche donne che non hanno questi codici, ma sono piacevoli. Ci sono donne che hanno questi codici, ma ci stai 5 minuti e ti cascano. E allora come non tornano i conti se è vero che questi sono i codici estetici? Perché la stessa cosa vale per gli uomini, gli uomini che cosa devono avere esteticamente? Devono essere più alti delle donne, spalle larghe, forti, devono essere atletici. Questo è il codice che mi rappresenta un uomo forte. Però ci sono uomini che sono i palestrati, li vedete? Vai lì 5 minuti e ti cascano. Ci sono uomini che non hanno questi codici eppure sono piacevoli. E qual è la risposta a queste domande? Anche qui torniamo nell'ambito di farci le famose domande, le famose risposte. E qui la risposta me l'ha data quello grande giornalista che è il, adesso poi mi verrà in mente, il giornalista della stampa, Gramellini, il quale disse che il contrario di bellezza non è bruttezza, il contrario di bellezza è assenza di energia. E ritorniamo di nuovo a un codice biologico. È chiaro che una persona che è vivace, una persona che è allegra, una persona che è piena di energia, è meglio di una persona palestrata ma priva di energia. Quindi ritorniamo, è chiaro che se io ho codici estetici più energia, è massimo, però io ritorno di nuovo a capire che i codici di estetica, i codici con quali noi ragioniamo sono sempre di con matrice biologica. È importante capire, avere questa visione nuova del corpo umano, del nostro modo di vivere e di scegliere, perché ritorniamo alla semplicità delle cose, ritorniamo ad una visione di un corpo intelligente, di un nostro modo di fare che è dettato da miliardi di anni di evoluzione, che si chiama la filogenesi. Quindi il mio corpo non fa nulla di cattivo, ma quando subisce un attacco si protegge, poi la fase di soluzione viene caseificato oppure viene incapsulato. Uno di questi processi a carico del mesoderma antico lo ritroviamo in uno dei processi tumorali al seno, che è tra i più frequenti. Stiamo parlando di che cosa? Dell'adenocarcinoma alle ghiandole mammarie, quello chiamato fibroadenoma, piuttosto che non adenocarcinoma lobulare, cioè quello che riguarda le ghiandole del seno, le ghiandole mammarie. Filogeneticamente cos'erano in origine? In origine queste ghiandole erano ghiandole sudoripare, qui vedete la riproduzione di un seno, vedete che ci sono le ghiandole e poi ci sono quei canali che sono i dotti. Adesso in questo breve lasso di tempo vi parlerò di questi due tumori che sono i più frequenti a carico del seno. Innanzitutto prima regola, sappiamo se è un tumore che viene a destra o a sinistra del seno, quale seno, in base a che cosa? Alla lateralità che vi ho detto prima, devo sapere se mancino ed estrimone, io so già con chi la persona ha avuto una situazione conflittuale, ma vediamo cosa fa il seno in questi casi. Le ghiandole mammarie in origine erano ghiandole sudoripare, cosa servono le ghiandole sudoripare? A produrre il sudore, perché? Qual è il senso biologico del sudore? Cosa serve? A raffreddare la superficie esterna del corpo quando fa troppo caldo, perfetto, un programma straordinario. Guardate il corpo come non solo fa le cose giuste, addirittura utilizza le funzioni che ha magari per altri scopi, il secondo scopo delle ghiandole sudoripare qual è? Se voi incontrate una persona e gli date la mano e sentite che ha la mano sudata, cosa c'entra? Mica deve raffreddare la mano, sapete che avete di fronte una persona preoccupata, in ansia, specialmente se vede voi, allora perché gli sudano le mani? Qual è il senso biologico? È in conflitto e io sono la persona che lo mette in quell'ansia tale, per cui di fronte a una situazione in cui non può più scappare, lui sa, ma non sa con la testa, ma con la biologia, che se io lo prendo, lui ancora ha una possibilità di scivolare via. L'animale biologico nell'ultimo stadio della fuga ha ancora questa possibilità di scivolare via dal suo nemico, vedete è un'applicazione indiretta del senso biologico delle ghiandole sudorite. Ma c'è una terza applicazione delle ghiandole sudorite ed è stata quella della specializzazione di queste ghiandole per elaborare, sintetizzare quella cosa che non è più sudore, ma è quella linfa vitale, quel nettare degli dèi che è il latte materno, che è ricchissimo di sostanze nutritive, che evidentemente la donna per miliardi di anni ha specializzato in questo abbraccio del suo cucciolo, che ha cominciato a succhiare e ha cominciato a specializzare questa funzione, per cui si è creato questo seno con le ghiandole sud-ex sudoripare, diventate ghiandole mammarie, con magari più mammelle, più seni dovuti a più bambini. Adesso siamo in uno stadio di due seni, bene, destra e sinistra, abbiamo queste ghiandole che producono latte e queste ghiandole perché Hammer le ha messe in questo ambito, in questo capitolo del mesodermo antico? Perché queste ghiandole, sviluppando sempre, seguendo sempre il decorso della curva bifasica, aumentano la funzione, sino al punto da proliferare il tessuto, quando? Quando la donna vive il conflitto, Hammer ha dato un termine molto, a mio avviso, appropriato, è il conflitto del nido. Cosa vuol dire conflitto del nido? Io il mio nido non è a posto e devo aumentare la funzione a livello proprio di DHS, di conflitto attivo, io devo fare di più? Allora questo aumento, che può essere dall'aumento semplice funzionale della ghiandola, sino ad un vero e proprio proliferazione di questo cosiddetto nodulo e lo riconosciamo perché è proprio circoscritto la ghiandola mammaria, ma non c'è donna che abbia questo nodulo nel seno se non a fronte di questo conflitto. e andate a vedere i due seni, quale dei due, la solita lateralità e lì lo trovate sempre al 100%, quindi cresce in fase attiva, in soluzione abbiamo la necrosi caseosa, la crisi epiletoide possiamo avere se volete forse un po' di fuoriuscita di liquido dal capezzolo, ma siamo nella fase di soluzione. A fronte di questo processo avremo un rilevamento di quelle che si chiamano le calcificazioni dei segni o le cisti dei segni, che sono niente di più niente di meno che la fase finale del processo e io credo che non ci sia donna che non abbia avuto nella sua vita un minimo di situazioni di conflitto di questo genere e non c'è donna alla quale gli fai la mammografia che non sia rilevata qualche calcificazione, che altro non è che cosa che la fase finale di questo processo, mai magari stato rilevato perché non si è andato a cercarlo, ahimè adesso continuano a trovarne uno dietro l'altro, perché arrivano a casa miliardi di lettere in cui tu devi fare questi esami e che ti beccano in un momento dalla fase, lì inizia tutta una sequela di protocollo che sappiamo come inizia, non sappiamo come va a finire, è chiaro che se io faccio un intervento chirurgico e tolgo il seno abbiamo risolto il problema, se volete si può fare così, toglietevi, tagliatevi le gambe, le braccia, i seni, tagliate tutto e lì è sicuro che non viene più nulla, è un modo per risolvere la situazione, se io posso anche avere il conflitto, ma se non ho più la sede dell'organo tutto questo non si riflette in nessun'altra parte e qui si apre un capitolo veramente interessante dove capite perché molti oncologi e molti medici sono costretti ad ammettere, ci sono tanti tumori al seno che regrediscono da soli, cosa sono? Sono questi processi che vanno a termine, punto, non c'è altro da, non vi direi questo se non avessi visto proprio nel gruppo di studio con i medici con i quali abbiamo lavorato, tanti segni andare a portare a termine il loro processo di guarigione, a questo però devo insistere, devo inserire l'altro aspetto, che se io continuo a recidivare sempre lo stesso conflitto, continuo a fare continuamente questi processi e allora è lì che devo cercare di aiutare la persona a dire cresce e fa la necrosi, cresce e fa la necrosi, posso avere le famose cisti liquidi, fibrodenomi, la parola fibrodenoma cosa vuole dire? Che il tessuto è più fibrotico perché ho avuto più conflitti di quel genere, se poi non riesco a portarla a termine e riparte di nuovo posso avere queste cisti liquide che sono proprio la dimostrazione di processi attivati, non finiti e ripartiti, allora in quei casi lì devo cercare di lavorare sulla persona per aiutarla a risolvere questo problema, perché è chiaro che se poi il processo va in suppurazione e mi formano delle lacerazioni sul seno, lì diventa più pesante la cosa ed è lì che devo intervenire con la medicina ufficiale per gestire il problema, vedete che non c'è una divisione netta tra fare o non fare, ma va capito perché e va seguito e monitorato con una nuova figura di medico che non mi mette più ansia e preoccupazione per un processo che va inquadrato in un altro modo. Già che ci sono vi introduco il secondo tipologia tumorale che riguarda seno, così il discorso è più organico, che riguarda i dotti, i dotti cosa sono? Tutti i dotti del nostro corpo sono di natura ectodermica, cioè fanno parte dell'ultimo foglietto emironale che vedremo dopo, dove il processo è dato da un cambio di fisiologia, non abbiamo più una crescita in fase attiva, ma in fase attiva abbiamo un'ulcera dei dotti, un allargamento, cioè qual è il senso biologico? Adesso lo vediamo, io devo ulcerare per far defluire il latte, ma se in conflittativo ho un'ulcera in fase di soluzione cos'ho? Se prima c'ho il meno in soluzione c'ho il più e quindi vado a ricostruire un tessuto e che in fase di soluzione mi viene chiamato carcinoma duttale infiltrante, è questo termine molto ridondante che mi identifica il processo che non è infiltrante, sì chiaro che è infiltrante perché sono i dotti, ma non è un qualcosa che mi sta infiltrando, è una fase di riparazione di una precedente ulcera dei dotti che avviene solo nella fase di riparazione, di quale conflitto? non è più il conflitto del nido, ma è il conflitto di strappo, cosa vuol dire strappo? Dipende dalla persona perché la lateralità lo sapete, chi mi viene strappato, chi ho perso, chi non ho più e perché? Non è separazione, la separazione è implicita ma è proprio, bisogna capire il senso biologico perché questi dotti si ulcerano in fase attiva per far defluire il latte quando la persona non c'è più, qual è il senso biologico? Lo possiamo capire solo in una chiave filogenetica, quando miliardi di anni fa la donna era perennemente con la montata latte, perché non c'è bisogno di andare indietro di tanti anni per ricordare situazioni di famiglie molto numerose, ma più andiamo indietro, più troviamo donne che avevano 10, 15, 20 figli, per cui erano perennemente con questo latte nel seno e quando spesso accadeva che o il figlio veniva strappato o moriva, questo spesso capitava o comunque questa situazione non il bambino o l'altra figura, la persona sulla destra veniva, non c'era più, io attivavo, perché ulcero i dotti? Per far andare via questa montata latte, il senso biologico è quello di dire non posso stare lì col seno pieno di latte, allora ho questo processo ulcerativo che consente di poter far defluire questo latte, quando il problema è risolto e o riprendo un bambino o riprendo comunque la situazione finita, il processo ulcerativo va in soluzione e ho quello che si chiama la riparazione del tessuto dei dotti, dei casi e carcinoma dottale infiltrante. Qui è dura far passare questa nuova visione dei tumori al seno, prima o poi il tempo sarà il miglior giudice per capire e anche qui non potrei dire questo se non avessimo visto e potessimo produrre tutte le persone che hanno avuto questo processo riparativo e non sono morte di nessun tipo di tumore al seno. Piano piano andiamo avanti e vedremo il tempo cosa ci dirà. Questo è il programma comunque del mesoderma antico, riguarda tutti questi tessuti di protezione e il processo è sempre lo stesso e diventa anche molto facile se volete rivedere questi processi alla luce di questo conflitto che è il conflitto di attacco. Andiamo avanti e parliamo dell'altro foglietto embrionale, abbiamo visto l'endoderma collegato al tronco, il mesoderma antico collegato al cervelletto, abbiamo il mesoderma recente che è collegato al midollo cerebrale. Cos'è il midollo cerebrale? è questa sostanza bianca, cosiddetta all'interno della corteccia, dove troviamo tutti i relè collegati a una nuova situazione, una nuova funzione, una nuova necessità biologica di sopravvivenza. Una volta che ho mangiato e mi sono protetto, io come individuo, nel momento in cui sono in mezzo agli altri non posso fare nulla, non posso stare lì e dire ok, mangio e mi proteggo. No, noi esseri umani abbiamo una prerogativa rispetto agli animali e alle piante, qual è? L'ho scritto nel secondo libro e qui mi sono permesso di quasi contestare la Bibbia quando dice che noi siamo stati condannati a lavorare, no, noi siamo stati condannati a migliorare. Il nostro vivere non può essere vissuto facendo nulla, nel nostro procedere dobbiamo sempre avere un programma davanti e per fare questa cosa in mezzo alle altre persone noi dobbiamo fare qualcosa. Questo fare ha obbligato l'individuo a strutturarsi, per prima cosa io devo stare in piedi, per stare in piedi cosa ho bisogno? Di una struttura scheletrica, poi ho bisogno non solo di stare in piedi, devo anche muovermi, devo andare, allora ho bisogno di tutto ciò che è l'apparato muscolare, io devo potermi muovere, ho bisogno di un tessuto che mi tenga tutto insieme, il tessuto connettivo, ho bisogno di un sistema che mi dia energia a tutto questo apparato e cosa faccio per prendere energia? Devo avere una pompa che si chiama cuore e che mi distribuisca questo sangue tramite il processo della respirazione che mi porta energia in tutti i distretti del corpo. Non ho detto nulla di nuovo, vi ho detto tutti quelli che sono gli apparati di questo nuovo foglietto embrionale che è il mesoderma recente, dove il conflitto qual è? Da un punto di vista biologico il conflitto è molto preciso, non riesco a esserci, non riesco a fare, non riesco a muovermi, è quello che tradotto in termini semplicistici viene chiamato il conflitto di svalutazione, però almeno ho recepitolo subito in maniera giusta, svalutazione ha un'implicazione di tipo psicologico, vedremo che ci sono situazioni dove c'è il conflitto di non riuscire a, ma non c'è svalutazione, spesso io non riesco a fare qualcosa, mi sento svalutato, ma questa è una derivazione del processo biologico, biologicamente io non riesco a fare qualcosa, non riesco a esserci e allora su questi tessuti che vi ho appena elencato che cosa avviene? Dobbiamo tornare sempre alla nostra curva che è sempre la stessa, la DHS ci deve essere sempre, il conflitto è inaspettatamente vivo un conflitto di svalutazione, cosa c'è? Parte la mia curva, ma in questo caso sul tessuto non ho più un aumento di funzione, ma inevitabilmente, dato che il corpo fa quello che io gli chiedo, percepisco, ho una riduzione di funzione, sino ad avere una vera e propria necrosi del tessuto, se io non riesco il mio corpo si ferma, quindi adesso andiamo a vedere i tessuti, si apre un capitolo nuovissimo che riguarda soprattutto le cosiddette malattie autoimmuni, che non è il mio essere scientificamente sfigato, ma è la riproduzione di questa curva in chiave però nuova, sensata, biologicamente utile, perché se in fase attiva ho una riduzione di funzione, in fase di soluzione cosa ho? Una ripristina della funzione, ma per ripristinare un osso, per ripristinare un tessuto, un muscolo, un vaso, cosa devo fare? Devo mandare al corpo un messaggio che sia funzionalmente utile, se io ho un osso che sta riparando, che messaggio gli mando? stai fermo, ma per stare fermo cosa mi manda un sms, una mail, per favore puoi stare fermo? No, mi manda un messaggio biologicamente funzionale che si chiama dolore, stanchezza, anemia, sono tutti quei processi che servono a farmi stare in condizione di rispetto del tempo, della fase di riparazione, non di malattia. Qui c'è veramente un'apoteosi di questa rivisitazione del nostro corpo, dove adesso andiamo a vedere le singole patologie. Allora, partiamo dalla prima struttura del mesoderma recente, che è l'apparato scheletrico. Io non so quanti di voi sanno che il nostro scheletro è in una continua fase di rimodellamento, il nostro scheletro, quello che abbiamo noi oggi non è quello di dieci anni fa e quello di oggi non sarà quello dei prossimi dieci anni, perché? Perché il processo di rimodellamento della struttura ossa avviene continuamente. Noi in questo momento, io in piedi, voi seduti, ma tutti stiamo esercitando questa funzione e stiamo chiedendo al corpo di fare. E qual è il primo processo di osteolisi della struttura scheletrica? Viene chiamato osteoporosi. Chi ha l'osteoporosi? Nell'accezione comune? Gli anziani. Quali? Le donne in menopausa. Non è vero, ce l'hanno una su tre, una su quattro, però l'effetto cicogno, cioè questa modalità di esaminare i casi mettendo insieme gli eventi, ha fatto sì che è vero che la maggioranza sono le donne in menopausa, ma ci sono anche donne che hanno l'osteoporosi e non sono in menopausa. Ci sono uomini che hanno l'osteoporosi e la menopausa non sanno cosa siano. Allora qual è il comune denominatore che mi mette insieme queste figure? Io lo devo trovare al 100%, è vero che la maggioranza possono essere le donne in menopausa, ma non c'entra niente il calo degli ormoni femminili. Che cosa hanno spesso molte donne in menopausa quando inizia quel momento in cui si sentono? Ormai non riesco più a essere mamma, ed è normale, comprensibile che tante donne che vivono così, questo momento fotografico ben impreciso dell'assenza del ciclo mestruale, come un momento di svalutazione, non riesco più e lì si comprende, ma capisco anche perché ce l'ha l'uomo e ce l'ha la donna in menopausa. Così come capisco e posso dare la risposta a quel medico che in un corso mi chiese, mi spiace contraddirla, ma la storia dell'osteoporosi mi spiega perché gli astronauti tutti quelli che quando tornano da un lungo viaggio in orbita hanno tutti l'osteoporosi, cosa c'entra la svalutazione? E la risposta è che dice grazie della sua domanda perché mi dà modo di spiegare che cosa vive l'astronauta in orbita, non è il conflitto di svalutazione ma vive il conflitto biologico di non ha motivo di ricalcificare il tessuto osseo, perché? Perché in assenza di gravità il corpo mica dice, aspetta qui dove mi trovo, non devo più ricostruire l'osso e lì c'è il processo di osteolisi, infatti quando arrivano sulla terra questi hanno tutti necessità di ricostruire e hanno questi processi più o meno accentuati, dipende, ma è esattamente la conseguenza logica di un'assenza di peso, perché in fondo la struttura ossea viene rimodellata a fronte di un mio stare in piedi, esserci, se io non riesco a comincio l'osteolisi, ma vedete che non c'è nulla legato agli ormoni, non c'è nulla legato alla femminilità, poi cosa succede? Che queste donne spesso hanno un colpo di coda e dice no, io voglio fare, voglio… e le vedi che si danno una spinta e vanno a fare yoga, spinning, le vanno a fare tutte queste cose, sono straordinarie, solo che in quel momento cosa succede? Vanno in soluzione e cominciano… ai, mi fa male qui, li chiamano gli acciacchi della vecchiaia e non capiscono che invece sono esattamente in una fase di riparazione. e allora loro cosa dicono? Ecco io volevo fare la fighetta, volevo andare a fare, invece adesso io devo stare… allora vanno dal loro medico e il medico qualcosa gli dà, no, gli dà un antinfiammatorio che un po' funziona, ma se poi il medico si lancia in quella battuta che è micidiale, perché se gli dice alla signora, signora Maria cara, adesso ormai è la sua età, battaglia in due, lui che rivestiva e riveste questa aspettativa terapeutica che è fondamentale, perché voi sapete che il medico non è ancora… io spero che i medici siano consapevoli dell'ascendente che hanno sul paziente, che questo viene ancora più accentuato quando? Quando il paziente è in sofferenza, un paziente che soffre dove va a finire? Va in regressione infantile, una persona che ha dolore diventa un po' più bambino e il medico diventa chi? Il papà e qui si instaura una dinamica di relazione terapeuta-paziente che laddove non c'è la conoscenza di questi processi, il paziente delega totalmente al suo corpo, al suo medico e questa delega, lo vedremo alla fine quando faremo il riappilogo di tutto quello che vi ho detto, diventa veramente una situazione in cui l'individuo si annulla, io te il mio corpo, mettimelo a posto e ridammelo, no, non è più così, io adesso il medico deve poter passare alla paziente che c'è una fase di riparazione che va aiutata, anche con dei farmaci va aiutata, sostenuta, ma non avete idea di quanto bene si potrebbe fare alle persone se riuscissimo a passare questi concetti, l'osso che sta riparando fa male, ma qui non so signore, è abbastanza semplice, quando uno indipendentemente dall'età ha una frattura di un arto, un incidente per dire stradale che fa molto male quando te lo riattaccano, cosa diciamo? Che è malato? No, è in una fase di convalescenza, mi fa male perché sto ricalcificando, è la stessa identica cosa. Ora, in attesa che questo avvenga cominciamo a conoscere questi processi e a capire che io devo poter gestire in maniera diversa il dolore, è chiaro che però a questo punto subentra un altro conflitto che è inevitabile, perché per quanto io sappia e conosca le leggi biologiche il dolore di per sé diventa motivo di ulteriore conflitto, perché se io ho un arto che mi fa male, adesso li vediamo gli arti, faremo una rapida carrellata delle strutture del nostro scheletro, se mi fa male una gamba che sto riparando e io ci cammino sopra, è chiaro che mi fa male e io inevitabilmente ricado sul conflitto di non riesco a, e allora ecco perché questi dolori sono un po' più, si protraggono nel tempo, ma questo è solo un fatto locale, il vero motivo per cui questi processi di osteoporosi o di osteolisi diventano cronici e diventano degenerativi e vanno in artrosi, artrite reumatoide, è che quando io non mi sposto dalla situazione conflittuale di non riuscire a, e adesso vediamo un attimino queste dinamiche, scusate, è partita la colonna vertebrale, la colonna vertebrale voi la, ve la ricordate no? È fatta e divisa in vari settori, abbiamo le cervicali, abbiamo le dorsali, le lombari e le sacrali, qui a seconda del punto dove si manifesta questo processo abbiamo dei conflitti diversi, nelle cervicali che tipo, cosa sono le vertebre? sono ossa, di fatto tutti gli effetti sono un tessuto osseo, che tra una vertebra e l'altra abbiamo questi spazi dove si inseriscono tutti i nervi spinali, qual è il conflitto che insiste sulle vertebre cervicali? Il conflitto è quello di svalutazione, adesso dico un termine molto generale, di tipo intellettuale, cioè è la sproporzione, è la svalutazione tra ciò che io faccio ciò che io penso, è il processo che insiste, la curva ormai non ve lo dico più, è sempre la stessa, in fase attiva cosa ho nelle cervicali? Ho una riduzione del tessuto osseo, indolore, asintomatico, che non è una vera e propria riduzione di osteolise, è un mancato deposito di calcio nella misura in cui questo processo di rimodellamento non avviene perché io vivo il conflitto di non riuscire a, ho paura di non farcela, quando è che io ho male alle cervicali? Quando vado in soluzione, perché il processo è di ricostruzione sino al punto da schiacciare quello che è il punto di innervazione di questi nervi spinali e lì ho questo dolore diffuso, che può essere un dolore proprio di mal di testa, che può arrivare anche degli acuti molto forti, ma io so che nella fase di riparazione ho, insisto, con questi tipi di dolori. Se scendo nelle dorsali, lì è il conflitto, mi sono tolto di mezzo qualcuno che mi stava addosso, è il conflitto di non riuscire a sgropparmi chi non mi fa muovere e lì avete anche questo riflesso di dolori acuti sotto la scapola, destra o sinistra, lì capite subito con chi la persona vive, ha finito il conflitto. Se scendiamo andiamo sulle lombari, qui ce n'è per tutti, le lombari sono proprio le vertebre che un giorno ci hanno consentito di alzarci in piedi da quadrupedi a bipedi, lì abbiamo il conflitto di svalutazione relazionale per il ruolo funzionale che io sono chiamato a svolgere nel branco, io non mi sento adeguato o mi dicono in base al giudizio degli altri o io credo di non essere adeguato a svolgere il mio ruolo funzionale e la relazione l'avete anche lì a destra e a sinistra vedete con chi è il conflitto e uno dei sintomi più chiari di questo processo, chi me lo dà? La compressione che avviene in fase di soluzione sul nervo sciattico, il nervo sciattico di per sé non è lui che sta male, è la compressione che avviene a livello vertebrale che mi fa infiammare questo nervo, ma sapendo la lateralità sapete già con chi sono in fase di soluzione di questo conflitto. Quando scendete sulle sacrali abbiamo un conflitto tipicamente di natura sessuale, queste mi fanno male quando ho risolto una situazione conflittuale per cui non mi sento adeguato come partner o vengo criticato per la mia posizione di partner, non valgo più, il mio essere maschile, il mio essere femminile è messo in gioco e compromesso dal giudizio del mio partner o mi sento svalutata come in questa relazione. Ma voi capite che se una persona cade, si siede, si rompe il coccise, non è per la caduta, è perché c'è un processo di osteolisi in corso, per cui io vivo una situazione di in fase attiva sto facendo un osteolisi e il processo di caduta è solo la goccia di un vaso che trabocca e lì diventa facile cominciare a fare un lavoro di riposizionamento facile, non è facile, ma almeno facile da capire, per riposizionare la persona nella sua identità sessuale, nella sua posizione di partner. Quando dalle sacrali andiamo alla struttura del bacino, siamo nelle anche, siamo in quella meravigliosa conchiglia che mi consente di accogliere qualcuno, mi consente di tenere, guardate le donne africane come tengono i loro bambini, sono sempre qui nel grembo, nelle gambe a cavallate, quella è la posizione biologica in cui dovrei tenere i miei cuccioli, ma l'osteolisi delle anche mi fa capire di nuovo che siamo nella sempre riattivazione di questo processo dove osteolisi in fase attiva e in soluzione ho il dolore nelle parti e anche qui di nuovo lateralità, mi dà la chiave di comprensione. Se scendo nel femore, il femore per me è un organo veramente straordinario, perché nel femore voi avete la soluzione di tutto di come va affrontata la vita, il femore è la rappresentazione del segreto dell'eternità, della continua giovinezza, perché siamo noi che impariamo dal femore, il femore se voi guardate le trabecole terminali, la parte dove si inserisce nell'acetabolo, è quell'osso più forte di tutte le altre ossa, perché l'osso più forte? Non perché sia il più compatto, ma è l'osso che ha la sua forza in quale struttura, nella sua estrema porosità e le trabecole terminali del femore sono molto flessibili, perché nella flessibilità noi abbiamo la vera forza e il femore, pensate a cosa deve fare per una vita intera di un individuo, deve sostenere, corriamo, saltiamo, cadiamo, ma è sempre il femore che ci tiene su e se non avesse questa forza nella sua flessibilità noi presto romperemmo anche l'osso più duro e voi capite che però se io arrivo a un certo punto della vita di una persona che vive il conflitto ormai non riesco più a andare avanti, questo è il conflitto del femore, non ce la faccio più a sostenermi, quante volte ho detto la parola negativa a quella che uccide una persona, che si chiama? La parola ormai, quando una persona comincia a dire ormai sappiate che ha cominciato a fermarsi, cercate di osservarvi, di ascoltarvi quando dite ormai, vuole dire che siete in una fase di fermo e non c'è niente di peggio di una persona, perché non è l'anagrafica, la carta di identità che ti dice che è una persona anziana, ricordatevi che non è l'età per cui una persona diventa anziana, ma è il suo percepito personale, ho ascoltato la storia di un maratoneta a Cagliari, di un uomo straordinario che mi raccontava delle vicissitudini di un suo amico che faceva la maratona con lui e questo signore aveva la bellezza di 90 anni e faceva la maratona e lui continuava indefesso a correre, era felicissimo finché è arrivato un signore che gli ha detto guarda che ormai è finita, non la puoi più fare la maratona e lui ci ha creduto a questa cosa e ha cominciato il declino e andate a vedere le persone che decidono di staccare la spina, sono quelle persone che non hanno più un programma davanti, ma ritorniamo a capire il corpo, il corpo fa quello che noi gli chiediamo, punto, voi capite che una volta compreso questo rischiamo di poter governare sempre il nostro corpo, di poter essere protagonisti del proprio processo fisiologico. Se scendiamo, a proposito del femore, tanto per dirvene una, voi sapete che nel mondo c'è un grande monumento nazionale che rappresenta un femore rovesciato, la Torre Eiffel, altro non è che la rappresentazione grafica di come è strutturato un femore, perché l'ingegnere Eiffel era un grosso studioso di anatomia e ci sono ancora i suoi studi in cui lui guardava come era fatto il femore e per costruire un monumento così grosso che potesse reggere sotto il peso di questa grande quantità d'acciaio non poteva fare un monumento compatto, lui solo imitando il femore, oggi noi vediamo ancora la Torre Eiffel in piedi perché in queste quattro strutture portanti c'è lo scarico flessibile di questa struttura porosa che è che è esattamente la riproduzione di un femore, quindi vedete che siamo noi che impariamo dal corpo, la faccia del corpo stupido che sbaglia. Se scendiamo dal femore e andiamo in tutte le altre strutture delle gambe vedremo che qui abbiamo svalutazioni di altro tipo, da quella sportiva a quella di movimento a quella della caviglia, non sono abbastanza scattante nell'andare, nel ginocchio ho la mia funzione decisionale, vado o non vado, parto o non parto, io sono stato un po' di anni fa col ginocchio sinistro bloccato per sei mesi ma sapevo esattamente che avevo risolto un conflitto con mia figlia che non riuscivo a decidermi, fai, non fai, alla fine quando l'abbiamo deciso, sono rimasto fermo col mio ginocchio, ma sapevo dove ero, però non mi sono risparmiato il prolungamento del dolore perché quando salivo le scale, ahi mi fa male, ahi mi fa male, quindi recidivavo un pochettino la situazione, però, attenzione, chi conosce la nuova medicina, queste leggi biologiche in famiglia cambia tutto il sistema, cosa vuole dire? Io quando sono con la mia compagna e stai male, ah si è risolto il problema, vabbè è finito, non c'è più un attimo di compassione, ah stai male, ho fatto quella cosa lì e ho risolto, adesso passo, tranquillo, ma tutto un altro, non c'è più la pillola, la cosa, aiutami, chissà cosa avrò, andiamo da noi, no, abbiamo risolto il problema ed è un vivere completamente diverso, ma a parte la mancanza di sensibilità verso queste situazioni, credetemi si vive in modo molto più leggero, più soft. Se andiamo nei piedi, lì c'è un'architettura straordinaria del nostro piede che è a dir poco affascinante, lì abbiamo tutto il nostro scatto, lì è tipico degli sportivi avere processi a carico dei piedi, c'è una cosa particolare nel famoso alluce valgo, adesso vi sto buttando lì delle cose perché ovviamente tutto meriterebbe tutto un approfondimento, ma almeno per capire i concetti direi che è basilare queste nozioni, l'alluce valgo che cos'è? È una deviazione dell'alluce sulla base di che cosa? Di una proliferazione del tessuto osseo che in fase di soluzione rappresenta la situazione di una persona che per anni ha vissuto situazioni di non riesco a prendere una direzione, è la svalutazione direzionale, vado di qua o vado di là e allora questo conflitto di non riuscire a decidere mi porta a una necrosi e riparazione, necrosi e riparazione e questo alluce tende a spostarsi, poi che io posso usare tutto ciò che è correttivo, tutto ciò che va benissimo, ma lavoriamo sulla situazione conflittuale, è lì che devo cercare di intervenire. Questo diciamo che in linea generale, poi è chiaro che altre parti del corpo, se io mi fa male sotto la pianta del piede, sono in una situazione di aver risolto che cosa? Mettere il mio piede, la mia posizione sopra qualcosa che non riuscivo a gestire, allora sono in una situazione sempre della tallonite, da questi processi a carico della pianta, quando riesco a mettere posizione su una persona o su una situazione. Quando abbiamo i processi che sono analoghi, ma cambia dalla struttura ossea, andiamo alla struttura della cartilagine, non cambia, il conflitto cambia o meglio, la dinamica si sposta da una svalutazione viscerale a una svalutazione di tipo funzionale di movimento. Il processo nelle cartilagini, per esempio in quella che è la fase dell'artrite, che cos'è? L'artrite è una fase infiammatoria che è sempre in fase di soluzione del problema. Io ho questo processo infiammatorio quando ho mancanza di deposito di cartilagine in fase attiva, in soluzione gonfia, se io vivo tante volte una situazione del genere, ho gonfiore, deformazione delle dita che mi dimostra che la persona nelle maniche qual è il conflitto? È il conflitto tipicamente lavorativo, il mio fare, il mio gestire. Una volta mi è capitato un signore che aveva proprio l'artrite reumatoide in tutte e due le mani, questo signore era un chirurgo del Gaslini di Genova, al quale mi disse proprio che lui ogni volta che vive questa situazione, che gli moriva un bambino nel suo intervento, viveva questa svalutazione di non riuscire a, però lui conosceva bene le leggi biologiche, sapeva di tutto questo, era un pur parler che avevamo iniziato con lui, però è chiaro che lì devo lavorare sul percepito, non è che tutti i chirurghi hanno questo processo a carico delle mani, chi vive questa dinamica, questo percepito. Quando c'è una svalutazione, e qui si apre un capitolo veramente da una parte bello e dall'altra molto triste, è la svalutazione viscerale, è la svalutazione non della mia struttura legata a un'articolazione, ma quando io non valgo più per nessuno e quando dico che non valgo più per nessuno, la svalutazione è soprattutto riferita a chi è più importante per una persona, è il giudizio della mamma, del papà, quando io non valgo più per loro o quando non valgo più per nessuno in generale, il processo di necrosi, di riduzione del tessuto non avviene tanto nella struttura singola, ma avviene in quella parte straordinaria che è la parte del midollo, la parte del midollo osseo, cosa c'è nel midollo di straordinario? C'è tutta la produzione dell'emopoiesi, cioè la produzione di globuli bianchi, globuli rossi e piostrine che sono i costituenti della parte corpuscolare del sangue, sapete che il sangue è fatto del 50% di plasma e 50% di strutture cellulari che sono proprio le piastrine, globuli bianche e globuli rossi, dove si formano questi? Si formano nel midollo osseo e qui c'è un bellissimo libro di Steiner che proprio lui identifica in questa produzione del midollo osseo l'energia vitale di una persona, perché se ci pensate bene non è il cuore, la testa e la parte principale, ma il mio fare, il mio esserci, il mio continuare a vivere è dato da questa sintesi delle strutture del sangue che mi danno la vita e chi vive questo? Vive questo chi ha portato la vita, chi ha un programma davanti, allora io produco tutta questa parte corpuscolare del sangue. Quando io invece vivo il conflitto non valgo più niente, allora che cosa ho? Nella fase attiva io ho una riduzione del tessuto di questo tipo di produzione e durante tutto il conflitto attivo ho quella che si chiama un'anemia funzionale, cioè abbasso tutti gli eritrociti, i globuli bianchi e le piastrine, sono in una fase di totale implosione e questo è tipico di chi? Di molti bambini e di molte persone anziane, che quando vivono una situazione di totale svalutazione, di totale inutilità, quando risolvo e vado in fase PCLA cosa succede? Che il corpo mantiene bassi gli eritrociti, aumentano solo i globuli bianchi e quando supero un certo livello cosa mi dicono che ho? La leucemia. E Hammer più volte ci ha detto, non avete idea quanto io piango, certe volte sapendo che viene confusa questa malattia, questo processo come una delle malattie più brutte, quando invece la leucemia c'è sempre nella fase di riparazione di un processo conflittuale a monte di non valgo più niente. E giustamente non ho la produzione degli eritrociti, perché in fase PCLA il corpo dice, guai se ti dessi l'energia adesso, adesso devo fare il processo di riparazione, di ricostruzione, tra l'altro questi non sono veri e propri globuli bianchi, si chiamano blasti, sono globuli bianchi immaturi che si alzano a livello proprio di processo di leuquicitosi in fase di soluzione e allora lì posso intervenire, è chiaro perché la persona è molto stanca, è debilitata, c'è questo processo che però è la fase di riparazione del tessuto, è chiaro che se mi fanno della chemioterapia troppo forte mi vanno a impedire quel processo, questo non vuol dire non fare nulla, io posso aiutare le persone, ecco perché il fenomeno di Bella, la terapia di Bella ha una sua valenza terapeutica soprattutto in queste patologie del mesoderma recente, perché? Perché quel piccolo chemioterapico che c'è mi contiene un po' la fase di riparazione, ecco perché riesco a capire perché di Bella certe volte non funziona e certe volte funziona, ma nel mesoderma recente funziona la grande, perché stringo un pochettino la fase di riparazione, ecco il vero lavoro di intervento terapeutico, conoscendo il processo intervengo a contenere la fase e qui purtroppo entriamo, non conoscendo, non capendo perché non riusciamo a venirne fuori da situazioni che a volte sono compromettenti. Se passiamo dalla struttura ossea invece alla struttura muscolare, entriamo in un capitolo veramente un po' difficile se volete a livello di spiegazione, ma è un po' più, adesso vi dico solo i concetti di fondo, perché il muscolo per potersi muovere ha bisogno di due relai, un relai del muscolo, cioè la struttura che è sempre collegata al mesoderma e l'altro è la motricità. Io in questo caso il conflitto che la natura è non è di svalutazione strutturale, il conflitto è di svalutazione motoria, non riesco a fare quel movimento, sono bloccato e allora posso avere o una, i processi sono sempre uguali, cioè necrosi del muscolo in fase attiva, in soluzione ho la fase di riparazione e questa fase di riparazione mi porta a dei programmi nuovi, che adesso vi abbozzo semplicemente, ma è la fase in cui ho una flaccidità del muscolo, il muscolo edemizza in fase di soluzione e mi cedo un po', la crisi epiletoide, il movimento, questo sbattimento, vi sto introducendo a grandi linee a quelle che sono le sintomatologie di tutte le malattie motorie che vengono etichettate con patologie le più svariate, dalla distrofia muscolare, alla sclerose multipla, al Parkinson, a tutte quelle dinamiche che la SLA, sono tutte quelle patologie che insistono sulla motricità e sui muscoli, ma che adesso vanno rivisitate alla luce di questo conflitto che può essere o un blocco della motricità o una riduzione dovuta al conflitto del movimento. Per adesso vi posso dire solo questo, che queste malattie hanno una caratteristica di base, un comune denominatore, che queste patologie insistono soprattutto su una tipologia di persone, le persone molto rigide, la rigidità può essere una rigidità caratteriale o comportamentale, cosa vuole dire? Che se io nasco in una famiglia rigida, con padre e madre dove tutto è un esame, tutto è un rigore, io inevitabilmente la mia vita è basata su questa rigidità o mi tolgo da questa situazione, altrimenti cado nella rigidità comportamentale, se invece ho una rigidità funzionale data dal mio ruolo che sono chiamato a svolgere nel gruppo, ecco perché molte persone di certi livelli, tipo Presidenti, Professori o Capi di Stato, sono tutte queste persone che hanno queste malattie maturie perché hanno una modalità di vita dove devono essere tutti rigidi come delle statuine. E voi capite perché tanti giocatori di calcio hanno la SLA, sono andati a vedere cosa c'era nell'erba, per vedere cosa c'entra l'erba. Andate a vedere quali giocatori hanno la SLA, non i fuoriclasse, Maradona o altre situazioni, non avranno mai malattie motorie perché per loro essere bravi a giocare non c'è, è una cosa normale, non so, invece andate a vedere quali sono i giocatori, sono quelli di medio livello che pur di salire nella notorietà, nel loro prestigio di essere calciatori, hanno passato anni e anni in rigore, in rigidità di allenamenti dove tutto è un esame, tutto è una prova da superare, tutto questo si traduce in un'estrema rigidità proprio a livello muscolare di motricità che è un vaso pieno, poi basta quella DHS, quella situazione motoria per cui hai il cedimento muscolare che tu entri in una ipotetica diagnosi di malattie di questo tipo. L'argomento è molto vasto, meriterebbe ovviamente un approfondimento che adesso non abbiamo proprio il tempo materiale, però almeno questo input generale volevo passarvelo su una dinamica dove insistono solo malattie di tipo motorio, dove tutte queste etichette vanno a cercare di classificare, catalogare, voi sapete che nella sclerosi multipla non c'è la sclerosi, c'è quella tipica sintomatica, la sclerosi a placche, ci sono tante etichette ma dimostrano che cosa? Un tentativo di etichettare quello che adesso invece noi sappiamo che insiste sui relai del midollo o nel relai della motricità nella corteccia, quindi è una visione completamente diversa e ovviamente ci sono stati casi diversi che noi abbiamo, che con i medici del gruppo di studio sono stati seguiti parecchi persone con queste malattie e vi posso dire che sì che ci sono state le cosiddette guarigioni, ma non è che con Hammer tu hai la pillola che ti risolve la situazione, ogni persona ha fatto un certo tipo di lavoro per spostarsi da questa rigidità. Domani quando Emanuele vi parlerà di quello che sono le modalità caratteriali tipiche per esempio del numero uno dell'ennegramma che è una persona molto rigida, è chiaro che lì lavori su una struttura predisposta a questa dinamica di rigidità e allora lì devi cercare di aiutare la persona a smussare questa situazione per renderti più flessibile e questo però è l'aspetto terapeutico che verrà dopo. Bene, questo in linea di massima è il tessuto scheletrico, il tessuto muscolare, esistono anche altri tessuti nel mesoderma recente che sono per esempio il tessuto connettivo e i nodi dove ci sono altre situazioni conflittuali, nel connettivo cosa abbiamo? Quella patologia che a voi donne piace poco che si chiama cellulite, cos'è la cellulite? Altro non c'entra il mangiare, essere grassi, la ritenzione idrica, non c'entra niente la cellulite, io ogni volta che leggo le cause della cellulite, quei pochi capelli che mi dico mamma mia, allora la cellulite è una necrosi del tessuto connettivo in fase attiva quando la persona vive un conflitto di svalutazione del proprio estetismo, della proprio, dov'è che abbiamo la cellulite nelle persone, nelle orecchie? No, ce l'hai proprio in quelle zone tipicamente femminili ed è o non è una patologia che ce l'hanno solo le donne, alcuni uomini possono anche averla, ma è tipicamente femminile perché è in necrosi del tessuto connettivo in soluzione, c'è la riparazione finché lo fai una volta, non succede nulla se lo fai tante volte, hai questo tessuto più fibrotico che ti forma queste sorte di avvallamenti che si manifestano in quella che si chiama la cellulite, questo non vuol dire che il tessuto fibrotico non puoi del tutto migliorarlo, puoi aiutare senz'altro con tutti i trattamenti che facciamo di estetica, ma la cosa più importante è che la donna ricomincia a volersi bene e a seguire il suo corpo e a volergli bene e a trattarlo come va trattato il corpo, ma se la persona si lascia andare è chiaro che vive completamente, se poi una persona se ne frega del suo corpo e non ha questo tipo di svalutazione, non avrà certamente la cellulite. Diverso il discorso dei linfonodi, questo qui è proprio un conflitto di svalutazione relazionale con terzi persone dove io mi sento in colpa, è proprio tipico dei bambini piccoli quando hanno questi linfonodi in soluzione, perché il linfonodo cosa fa? In fase attiva è la necrosi del tessuto per aumentare il passaggio linfatico in soluzione alla fase di riparazione e ho questo linfonodo che tende ad aumentare. Ora tutti gli organi che abbiamo visto fino adesso hanno una caratteristica, è importante saperlo, sono organi che Ameri definisce organi di lusso, perché? Perché la natura siccome nella fase di riparazione ha il suo senso biologico, se io vado in riparazione di questi tessuti, il corpo non solo mi dà la ricrescita del tessuto, ma me ne dà un po' di più, ecco perché si chiamano organi di lusso, è perché io formo il callosseo, formo il tessuto più fibrotico, ho questo linfonodo che cresce un po' di più, perché è il corpo che mi dà di più nella misura in cui io gli ho dato la prova che ho avuto più conflitti e voglio riparare. È chiaro che se questo però si traduce in recidive continue, il corpo mi dà sempre di più, ma io posso avere un processo artrosico dell'osso in cui questo osso cresce troppo e ho questo processo di sfregamento delle ossa, allora lì devo intervenire alla rovescia, il corpo mi dà di più, ma io devo intervenire perché almeno da ridurre questo processo, se no l'artrosi diventa molto dolorosa, ma adesso dobbiamo capire perché il corpo mi dà questo, perché il corpo mi dice, tu hai il discorso di picchiare la testa contro il muro, se io ci picchio una volta non succede nulla, se continuo a picchiare il corpo dice senti, tu hai bisogno di picchiare lì, non lo so perché, ma io ti do il callo, tu vuoi quello? Io te lo do, solo che poi devo stare attento a non superare il famoso limite conflittuale.